Una prestazione monstre del re Roger Federer che dopo due primi turni in cui aveva un po' balbettato, aveva lasciato due set per strada, oggi un Roger Federer ineccepibile, un Roger Federer ingiocabile, un Roger Federer semplicemente in stato di grazia straordinario, ha ripreso la condizione, ha preso il ritmo, evidentemente ha ripreso anche il gioco, ha ripreso anche un po' di fiducia perché comunque dopo non era semplice anche psicologicamente riprendersi dalla sconfitta nella finale di Wimbledon, però è chiaro che un campione come Federer se ne fa anche una ragione, se vince 20 slam invece che 21 diciamo, uno se ne può fare anche una ragione, Roger Federer oggi riparte da campione dopo quella sconfitta a Sennati, dopo appunto i primi due turni che non aveva convinto appieno, invece oggi un Federer straconvincente, che diciamo nel lotto dei favoriti si rilancia ampiamente, forse, 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 forse ragazzi dirò una bestemmia ma forse anche da favorito numero uno insieme a Rafael Nadal perché Nadal si è in forma però con questo ritmo Roger Federer evidentemente l'ha aiutato anche il caldo perché il caldo aiuta anche a rendere la superficie più veloce, più vivace sull'Arthur Ash e sicuramente oggi con il caldo, con il sole Roger è riuscito anche a ritrovare velocità nel campo e attitudini al suo gioco perché comunque lui è stato molto polemico e spesso con gli US Open e dal punto di vista della velocità della superficie oggi invece un Roger che si è visto e si era trovato completamente a suo agio, con un Evans che si prende una bella lezione di tennis simile a quella che si è presa Berrettini a Wimbledon, veramente oggi una stesa in un'ora e venti di gioco di monologo da parte di Federer che ha veramente scherzato oggi contro il suo avversario trattandolo quasi in maniera veramente impietosa, perché il ponteggio finale è quello che è stato proprio a livello tecnico la partita di oggi non ha lasciato spazio a tanti discorsi o ragionamenti, semplicemente oggi è un Federer perfetto, un Federer che ha giocato in maniera ineccepibile che evidentemente giocando così allora si ricandida come favorito numero uno forse anche per questo US Open proprio anche per il problema alla spalla di cui soffre Novak Djokovic che lo potrebbe comunque mettere un passettino indietro anche se è un passettino indietro, Novak Djokovic anche con il dolore alla spalla non lo metti e quindi comunque ci attende un US Open davvero avvincente proprio perché tutti e tre comunque stanno giocando molto bene, sia Nadal sia Federer ma anche Djokovic nonostante sia il problema, poi lo vedremo stanotte contro Denis Kudola, però insomma anche lui ha dato delle sensazioni convincenti nei primi turni, quindi insomma un Federer perfetto in tutto e per tutte veramente, al servizio, rendimento al servizio nettamente migliorato rispetto ai primi due turni, quando prova ad accorciare gli scambi ci riesce alla perfezione, insomma proprio riesce a malleare e a scherzare il suo avversario come gli pare e piace a disegnare il campo in maniera perfetta veramente, è riuscito a fare tutto ciò che voleva oggi, sono sensazioni queste perfette per il prosieguo del terneo, fatemi sapere voi nei commenti invece cosa ne pensate, lasciate una like di mi piace al video, condividete questo video e iscrivetevi al canale, se ancora non lo avete fatto il re c'è e come e lancia un chiaro messaggio ai suoi due rivali e a questo punto riricirai al prossimo video.